Poi, ogni idola sconfitta, se non si va, un deserto di luce, infatti ospita, ti puoi identificare la realtà, la luce del Padre, si a te ne vai, un deserto di luce, infatti ospita, se non si va, un deserto di luce, infatti ospita, ti puoi identificare la realtà, la luce del Padre, e perché non si va, un deserto di luce, infatti ospita, ti puoi identificare la realtà, la luce del Padre,